Carissimi amici, benvenuti all'appuntamento con Autofrancia, vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino. Restate con noi, questa è una puntata davvero strepitosa, ci sono delle offerte veramente da non perdere, ma andiamo con ordine. Come ormai sapete Autofrancia è da sempre Fiat Alfa Lancia e Jeep e qui troverete tutta la gamma in pronta consegna, come anche Compass e le mie spalle 500X. Telefonateci e prenotate i vostri test drive. Questo mese gli sconti sulle autovetture nuove salgono fino a 7.000 euro, quindi avete un risparmio veramente pazzesco. Grandi sconti anche sulle autovetture d'occasione aziendale ai chilometri zero che Autofrancia ha messo a vostra disposizione, sono oltre 400. Pensate che sulle autovetture d'occasione lo sconto arriva fino al 50% dal prezzo di listino, quindi grande risparmio dal prezzo di listino. Supervalutazione del vostro usato e anche lo sconto all'ottamazione questo mese. Quindi anche se avete un'auto dall'ottamare veniteci a trovare perché sicuramente abbiamo la soluzione e lo sconto che fa per voi. Le modalità di pagamento, velocemente ve lo ricordo, qui nessuno vi costringerà a fare i finanziamenti. Se volete potete fare il pagamento per contanti o se volete sfruttare le offerte che vi propone FCA Bank abbiamo anche quelle. Oppure potete sfruttare il modo nuovo di acquistare la vostra autovettura, cioè il TTC Autofrancia. Tutto, tutto compreso Autofrancia, ve lo sintetizzo in poche parole, cioè concorderete un canone mensile che non vi dia fastidio e all'interno avete servizi a 360 gradi. Assicurazione furto incendio, avete la casco, 5 anni di garanzia, chilometraggio illimitato, i tagliandi compresi, il cambio gomme. Cioè avete veramente tutto, pagate il canone mensile e non dovete pensare più a nulla. Qualunque cosa succeda sulla vostra autovettura siete coperti a 360 gradi con zero pensieri e avete sempre diritto all'auto di servizio. Quindi non avete nessun tipo di problema e soprattutto la vostra macchina con questo pacchetto non si svaluta più. Quindi come vedete abbiamo le soluzioni che fanno per voi ma adesso restate con noi perché ci trasferiamo nei padiglioni delle autovetture d'occasione aziendale chilometro zero. Occhio perché ci sono delle offerte veramente da non perdere. Entrate con noi nel primo padiglione delle autovetture d'occasione aziendale chilometro zero e partiamo con la prima offerta che è subito qua in pole position. 500X 1000 T3, il motore super ecologico, quello nuovissimo. Parliamo di un'autovettura aziendale con solo 6.000 chilometri. Dirvi che è full option a dire poco perché ha veramente tutto, 17.900 euro il prezzo ed esclusivo Autofrancia. Panda 1300 Multigetta, 95 cavalli 4x4, se vi dovete rampicare in montagna questa è l'autovettura giusta per voi, aziendale regalata a 11.200 euro. Autofrancia da sempre Fiat, Alfa Lancia e Jeep ma abbiamo anche le straniere. Guardate, Toyota Yaris 1000 Active 69 cavalli, nuova chilometri zero a 12.200 euro. Lancia Y, ne abbiamo oltre 40 a vostra disposizione, questo mese le Lancia Y, chilometri zero partono da 8.900 euro. Volendole potete anche comprare disponibili con impianto EcoGPL. Altra Toyota, questa volta Aigo, abbiamo appena visto la Yaris, nuova chilometri zero anche questa, ve la proponiamo a 10.900 euro. Anche qui parliamo di autovetture full option. Questa Y è appena venduta ma come già detto ne abbiamo oltre 40 a vostra disposizione, bellissima anche questo verde smeraldo. Citroen C3 1.200, Purtec 82 cavalli, la versione Shine, nuova chilometri zero. Il prezzo è veramente fantastico, ve la proponiamo a 13.500 euro. Casa Citroen C4, 7 posti, la versione Gran Picasso, ha veramente tutto. 1.6 HD, 120 cavalli, 7 posti, gli interni in pelle, il navigatore satellitare, le luci a led, ha veramente tutto. È un'autovettura aziendale quindi veramente pari al nuovo, 20.900 euro, veramente regalata. Siamo nel secondo padiglione dell'autovettura e d'occasione aziendale chilometri zero, corriamo perché le offerte non finiscono mai. Tipo Station Vego, 1.6 turbodiesel, 120 cavalli, la versione Lounge, quindi siamo al top di tipo. Aziendale, ve la stiamo regalando a 12.900 euro, volendo anche finanziamento anticipo zero. Qui le rate sfiorano i 200 euro, quindi rate veramente bassissime. Giulietta, 1.6 turbodiesel, 120 cavalli, Take Edition, 18.500 euro, nuova chilometri zero. 500X, abbiamo l'imbarazzo della scelta, partiamo nuova chilometri zero da 15.900 euro, sia benzina che turbodiesel. Mito 1.3 multijet, 95 cavalli chilometri zero, 12.900 euro, offerta esclusiva Auto Francia su tipo. Ne abbiamo messe 5 a vostra disposizione con un prezzo che vi garantisco davvero imbattibile. Parliamo di tipo 1.4, 16 valvole, 95 cavalli, la versione Lounge, quindi abbiamo tutto. Nuova chilometri zero, non state sognando, 13.900 euro, volendo anche posso finanziarla interamente. Le rate superano di poco i 170 euro mensili, quindi chi vi dà un'auto nuova a questo prezzo, succede solo qui da noi all'Auto Francia. Purtroppo siamo giunti in chiusura, come vedete siamo ritornati negli showroom delle autovetture nuove di gamma Fiat Alfa Lancia e Jeep. Facciamo un riassunto di questa puntata. Avete visto solo alcune delle autovetture d'occasione aziendale chilometri zero che Autofrancia ha messo a vostra disposizione? Se non l'avete vista in questo filmato, consultate il nostro sito autofrancia.it che è super aggiornato, o meglio telefonateci, o meglio ancora veniteci a trovare perché siamo aperti 7 giorni su 7, anche il sabato e la domenica. Vi ricordo tutta la gamma Fiat Alfa Lancia Jeep in pronta consegna, a questo mese gli sconti arrivano fino a 7.000 euro, quindi veramente pazzesco. Supervalutazione del vostro usato e lo scontro di automazione, sia che vogliate un'autovettura nuova o che vogliate un'autovettura d'occasione aziendale o chilometri zero. In chiusura velocemente, vi ricordo anche i finanziamenti, li cuciamo su misura per voi, potete fare noleggio a lungo termine, potete sfruttare il tutto, tutto compreso Autofrancia, quindi finanziamento TTC Autofrancia con zero pensieri, finanziamento anche anticipo zero e servizi a 360 gradi, furto incendio, casco, tagliandi, gomme, non pensate più a nulla con zero pensieri, o se volete la potete anche pagare per contanti, questo nessuno ve lo vieta. Quindi come vedete abbiamo sicuramente la soluzione che fa per voi. Metteteci alla prova, verrete accolti da dei veri professionisti che vi faranno sentire come a casa vostra e saranno in grado di soddisfare al 100% tutte le vostre esigenze. Vi garantisco che non rimarrete delusi. Quindi vi do l'appuntamento qui, Corso Francia 341 a Torino. Vi ricordo che siamo aperti sette giorni su sette, quindi il posto giusto per comprare la vostra autovettura è proprio qui da noi, all'Autofrancia. Vi aspettiamo!